Il MEUR, la mobilità urbana elettrica, questo è il tema di questa tavola rotonda di questa mattina all'Aurum di Pescara. Si parla di mobilità, mobilità sostenibile in una città, vice sindaco Blasioli, che deve fare i conti già da queste ore con la fine delle vacanze, con problemi di traffico e di congestione del traffico, soprattutto in alcune ore della giornata. Sì, parliamo di mobilità elettrica, ma in preparazione di una grande manifestazione, Ecomob, che si trarà il 26, 27 e 28 di ottobre nella nostra città di Pescara, al porto turistico. Gli autoveicoli, gli autobus, insomma tutto il materiale rotabile nella nostra città costituisce circa il 25-28% dell'inquinamento che c'è nella nostra città. Noi sostanzialmente quando arriviamo intorno al mese di novembre e di dicembre superiamo le 35 giornate consentite dalla legge per quanto riguarda il PM10 e il PM2.5 e questo è un obiettivo nella riduzione. Le auto elettriche possono servire per questo, possono servire per gli spostamenti non inquinanti nel centro cittadino e nelle ZTL, possono servire soprattutto per combattere l'inquinamento. Ad ottobre del 2017 ho portato in giunta comunale una delibera che prevede la possibilità di avere incentivi per il parcheggio sulla città di Pescara. Oggi parcheggiare su tutta la città di Pescara costa un abbonamento circa 54 euro mensili. Per le auto elettriche e ibride, per la città di Pescara parcheggiare in un anno, quindi non in un mese, costa circa 54 euro. Aderendo a un protocollo d'intesa con Enel X, che è il settore innovativo di Enel, abbiamo installato sulla città di Pescara circa 10 delle 19 centraline di ricarica delle auto elettriche. Entreranno sette di queste in funzione il 28 di settembre, le altre entro il 15 di novembre. Poi ci saranno due pali intelligenti che non si occuperanno soltanto di ricarica, ma anche di wifi, sorveglianza, eccetera, che sempre Enel X ci ha messo a disposizione gratuitamente. Questo perché? Perché vogliamo incentivare sempre di più l'utilizzo dell'auto elettriche nella città di Pescara.